Benvenuti in questo nuovo episodio di Minecraft. Questo è il primo episodio della serie di Minecraft che si chiamerà Cavolate, in cui faremo tutte cavolate a G misura. Quindi mettiamo un crea un nuovo mondo e per inaugurare come fare con l'esplosivo. Facciamo quindi TNT, chiamiamo questo mondo, come vi pare, è uguale. Mettiamo modalità creativa, a meno che non vogliamo fare il survival, mettiamo un super piatto, personalizza e mettiamo preimpostazioni. Se noi cancelliamo tutto stampa, radam, bla bla bla, cremine, graffi qualcosa, ci scriviamo 46, che è il numero della TNT, per avere appunto un mondo fatto solo di TNT. Quindi noi mettiamo usa la preimpostazione, ecco, TNT fatto, prena un mondo e dai dai computer, ce la puoi fare, ce la puoi fare, ce la puoi fare, sono orgoglioso di te. Guardate un po' dove ci siamo spavolati da fronte a un normalissimo villaggio di villager. Ha soltanto un blocco d'alchezza rispetto al terreno normale, dove anziché esserci le strade c'è il nulla. Ah no, giusto, non è finito qui. Le porte sono sollevate in aria, allora perché mettiamo, vabbè, un blocco da terra, per peggiorarti la vita in survival. E sta così. Ecco, poi ci sta un po' di roba, ci sta un po' di roba, e comunque sia questo villaggio abbastanza grande. Ciao, brutto scemo, ciao, ciao, ciao. E qua ci sta una cesta, vabbè, la mazza che ci sarebbe stato. Cioè, l'ossidiana, sei di ossidiana? E due pantaloni, vabbè, due pantaloni per due persone, vabbè. Vabbè, non sto a mai commentare. Ok, ora cosa ci resta da fare? Ci resta da fare soltanto una cosa, che è appunto l'esplosione. Quindi basta fare questo. Chianti, attrezzi, acciarini. Vediamo quanto campa. Pizziamo questa bomba sotto la mia casa. Intanto c'è anche lo spazio proprio perfetto. Questa è la mia casa. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Al prossimo episodio. Mettete mi piace se il video... Cacchio, oddio! Se il video vi è piaciuto, vi lascio un pre-de-rag. Che cacchio succede? Non lo so. Ragazzi, sto andando a piedi, sto andando a piedi. Se vi è piaciuto, scrivetevi oppure mettete mi piace. Se non vi è piaciuto, diteci nei commenti come possiamo migliorare. E al prossimo episodio, con il prossimo cazzeggio, che potrebbe essere proprio la sovrappensa in un mondo di PNT. Non lo so. Vediamo, scrivetelo nei commenti. Se volete un cazzeggio in una... Al prossimo episodio, ragazzi. Al prossimo episodio.